Pippi, 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 che nome fa un po' ridere, ma voi riderete di quello che farò. Così voleva la sigla in lingua italiana della serie Pippi Calzelunghe, che ebbe successo in tutto il mondo, dedicata all'opera della più famosa scrittrice svedese per bambini, Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, autrice di numerosi libri tradotti in tutto il mondo, autrice di saghe con personaggi che tornano, come Pippi Calzelunghe, come Erasmus e Vagabondo, e autrice di molti racconti, come quelli che Iperbore ha pubblicato per la prima volta in italiano negli ultimi tempi, come questi raccolti nel volume Greta Grintosa, questi nel volume Peter e Petra, e in un altro, più recente, intitolato L'Uccellino Rosso. Astrid Lindgren ha come propria linea principale di lavoro il racconto della realtà, e la stessa ha avuto una vita molto complicata. Ha avuto il grande successo in età adulta, ma in gioventù era povera, ha dovuto affrontare problemi molto gravi nella sua vita, e per questo motivo ha sempre avuto un'attenzione speciale per tutti gli aspetti meno fortunati della realtà. La Svezia in cui lei cresce è una Svezia lontana da Stoccolma, dove arriva dopo che ha mai fatto le scuole, una Svezia più di campagna, e quando si trova in città si trova ad affrontare una realtà in cui vi è una separazione dal mondo, le persone spesso sono sole, e di fatto lentamente ella comincia a scrivere, dovendosi occupare di un lavoro pratico, che è quello di raccontare le automobili. Le automobili, per la nascente società automobilistica svedese, in un'epoca in cui negli anni venti di automobili c'erano poche, le avevano soltanto le persone molto molto ricche, lei non lo era, e quindi poteva vedere le differenze nella società. Perciò spesso i racconti di Astrid Lindgren hanno a che vedere con bambini e bambine che cambiano la realtà, anche dei loro genitori o dei loro cari. Nelle opere di Astrid Lindgren ci sono anche molti bambini e bambine che non hanno i genitori, che vivono con il nonno o con la nonna, perché vi sono stati problemi, e la nonna era l'unica che poteva occuparsi di loro. Questo è il caso, ad esempio, di Greta Grintosa, che dal titolo Una delle due raccolte di racconti, la prima edita dei Perborea, in cui si racconta di una bambina che, giunti al Natale, si trova davanti a un grande problema. La nonna, che è una fabbricatrice di bastoncini di zucchero, che sono famosi alla fiera del paese e vengono venduti prima di Natale, avendo enorme successo tra tutti gli acquirenti, si è rotta una gamba, e quindi non può andare al mercato e quindi non può fare dei soldi per comprare un regalo di Natale alla nipote, a cui l'ha promesso da molto tempo. È disperata, ma la bambina, Greta Grintosa, non ha alcun problema. Dice, ci andrò io al mercato. È una bambina che non sa nemmeno leggere e scrivere, che a malapena sa riconoscere una moneta da 50 centesimi, ma tanto le basta. La nonna divide i suoi bastoncini di zucchero in sacchettini, dicendo che per ogni sacchettino deve corrispondere una moneta da 50 centesimi. E a questo punto il gioco è fatto. La bambina, coperta da strati e strati di maglioni e calze, perché il freddo è terribile e si rischia davvero che cada al naso, diventa l'attrazione della piazza. Tutti vogliono acquistare i bastoncini di zucchero da lei. E Greta, che Grintosa era stata fin dalla sua più tenera infanzia, qui dichiara la propria, vera e propria capacità di intervenire nella realtà e alla fine farà dei danari. Riuscirà a prendere il regalo per sé che la nonna aveva già a suo tempo prenotato, una bambola, se è bella, e riuscirà anche a fare il regalo alla nonna, cioè un paio di guanti che a lungo aveva desiderato. Peter e Petra sono invece due creaturine del popolo di sotto. Anche nel mondo di Astrid Lindgren le creature della cultura popolare scandinava tornano e sono molto presenti. Un giorno, in una scuola, si presentano Peter e Petra, che sono due creature piccole, per cui la maestra non si scompone più di tanto, chiama il falegname e chiede che faccia due strutture, un banco piccolino e due sedie piccoline, che possano accogliere queste creature più piccole che hanno deciso di istruirsi. E un bambino fa amicizia con loro e in un certo momento riesce ad entrare nel loro mondo. Entrare nel mondo dall'altra parte, andare oltre la porta, entrare nel mondo delle favole, è per Astrid Lindgren la porta principale dell'immaginazione. Nell'uccellino rosso, che è una fiaba, che ha come sua caratteristica quella di avere personaggi che tutti seguono, un uccellino rosso che continuamente appare nella loro vita nei momenti più terribili, è quella che porta in sostanza all'idea del potere dell'immaginazione. L'uccellino rosso è ad esempio quello che incontrano due bambini che sono maltrattati dal contadino che li ospita e che li vuole soltanto per lavorare nei campi. All'epoca, negli anni 20, 30 e 40, i bambini dell'assistenza e i bambini orfani potevano essere dati a delle famiglie contadine che prendevano dei soldi dallo Stato per questo e contemporaneamente li sfruttavano. Ecco quindi che questi bambini, che sono così assolutamente disperati, in una realtà che è ostile, in un freddo che mai finisce, seguono un giorno, in tutto un paesaggio di neve bianco, in modo totale, un uccellino rosso di un rosso fiamma incredibile. E questo uccellino spicca e spicca e loro lo inseguono e non fanno i compiti che il contadino gli ha imposto fino a che arrivano a una porta. E dietro quella porta c'è un mondo diverso. Non c'è la neve, è sempre primavera, e c'è una creatura, una donna assai alta, che si chiama la mamma, la mamma di tutti. E la mamma di tutti non fa altro che essere la madre che tutti hanno sempre sognato, quindi prepara merende, crea dolci, dà mele buonissime e gustose. I bambini tornano indietro più e più volte verso la fattoria dove sono sfruttati, maltrattati, picchiati, e poi un giorno ritornano nel mondo a cui l'uccellino rosso li conduce e prendono una decisione, quella per cui non torneranno più indietro. Quando si chiuderà la porta, sempre lasciata succhiusa tra un mondo e l'altro, il loro mondo diventerà quello della madre, buona, che sempre lascia loro il tempo di divertirsi, di giocare, e il tempo anche di poter gustare le squisite merende che ella prepara. Quindi, Astrid Lindgren racconta nelle sue opere come quanto l'immaginazione possa cambiare la nostra realtà e lo dice di se stessa avendo dovuto affrontare problemi complicati in gioventù dicendo che la capacità di inventare storie e raccontare storie gli ha permesso di superare i problemi più complessi di tutta la sua esistenza. Di questo parlano i due piccoli Peter e Petra, Greta Grintosa e l'uccellino rosso e poi l'antico uccellino della felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.